Il WWF ricorre al Tarra e Lazio per bloccare ancora una volta il progetto Umbrina Mare. In questo caso la richiesta degli ambientalisti è quella dell'annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale 172, quello dello scorso 7 agosto. Secondo i legali che hanno avanzato la richiesta al Tarra, infatti, sarebbero state rilevate non poche incongruenze nella procedura amministrativa. Questo è un ulteriore tassello che viene messo insieme in quella che è una battaglia forse fondamentale per l'Abruzzo per bloccare quest'opera che è assolutamente demenziale dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, tant'è vero che contro Umbrina c'è tutto l'Abruzzo che si sta schierando e questo secondo noi è l'altro aspetto importante, l'aspetto politico, di cui il governo dovrebbe tenere conto. Non si possono fare delle scelte come queste contro la volontà della regione, di tutti gli operatori economici, delle associazioni, degli enti locali e soprattutto dei cittadini abruzzesi. Il WWF dichiara di portare avanti una battaglia costruendo tutti i tasselli necessari a bloccare Umbrina Mare, coinvolgendo un gran numero di esperti indispensabili per affrontare una questione che si rivela molto complessa. Il ricorso è stato fatto estremamente bene dall'Avvocato Francesco Paolo Febbo e le ragioni sono quelle che portiamo avanti da tempo. Ci sono delle irregolarità in questo procedimento, secondo noi abbastanza palesi. confidiamo che i giudici abbiano la nostra stessa opinione e annullino il decreto ministeriale. Noi siamo certo che siamo convinti di farci, altrimenti non avremmo fatto il ricorso. Siamo convinti perché sappiamo di essere dalla parte della ragione sul piano giuridico, ma soprattutto sappiamo di essere dalla parte della ragione sul piano politico, perché è assurdo che si voglia imporre a un territorio un insediamento che questo territorio non vuole perché ha fatto scelte diverse per il proprio futuro e per la propria economia.